Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Cari amici, bentornati all'appuntamento col Meteo di TV6. Per quanto riguarda questo, mercoledì 10 agosto, si prospetta una giornata complessivamente instabile sulle regioni dal centro e dal sud a causa di infiltrazioni fresche e d'alte quote provenienti dai Balcani che contrasteranno la calura presente nei bassi strati, quindi tutto questo sfocerà in temporali isolati però molto intensi, specie sul Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche le regioni adriatiche faranno i conti con un po' di instabilità pomeridiana, anche l'Abruzzo pertanto non sarà esente da questa instabilità temporalesca durante le ore pomeridiane, le primissime ore della sera. Pertanto ci aspettiamo dei fenomeni sull'Aquilano, buona parte dei settori interni, soprattutto sulla Marsica, anche l'Alto Sangro, possibilità di fenomeni di forte entità con grandinate e intense raffiche di vento più variabile man mano che ci avviciniamo alle coste con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature stazionarie tra 28 e 30 gradi nelle massime, minime tra i 17 e i 22 e i 23 gradi. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.